O si troverà entro venerdì una soluzione e l'unica all'orizzonte, quella di un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i 95 comuni della marca, oppure ci si ritroverà con i profughi in strada. Usa proprio questa espressione, in strada, il vice prefetto Pietro Signoriello, al termine della riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, voluta dal comune di Treviso dopo l'arrivo di altri 50 migranti. Il dormitorio di via Pasubio è stato riaperto, sono stati accolti 35 cittadini eritrei, ma sarà a disposizione solamente fino a giovedì notte. Questa volta l'emergenza rischia di esplodere in tutta la sua gravità. Noi in questo momento abbiamo stabilmente presenti circa 240 cittadini stranieri richiedenti asilo e la prospettiva nell'ambito del piano di distribuzione nazionale del Mare Nostrum è che questa provincia dovrà arrivare a 700-720 unità. E siccome cominciano a preannunciarsi contingenti significativi in arrivo, in una situazione di questo genere rischiamo nel breve periodo di avere un certo numero di persone in strada. I bandi pubblici per l'appalto del servizio di ospitalità dei profughi non sono bastati a risolvere il problema. Mercoledì mattina il Comitato si riunirà di nuovo e stavolta saranno chiamati a parteciparvi tutti i comuni. Obiettivo una rete di micro accoglienza. La situazione è oggettivamente difficile, quindi in questo momento il piano è questo, cioè il piano è che dobbiamo responsabilizzarci tutti e capire che tutti i sindaci della provincia devono dare una mano per trovare una soluzione a questa emergenza. Resta da vedere quale sarà la risposta dei sindaci, nessuno si fa grandi illusioni, anche perché nei comuni rispetto al problema serpeggia un generale malcontento, ben interpretato dall'assessore provinciale alla protezione civile Mirko Lorenzon. Il ministero non può lasciare i sindaci che sono inermi, non hanno risorse, non hanno niente, per occuparsi di questo problema, che è un problema nazionale, non è un problema diciamo europeo e se lo è accolato è una cosa vergognosa questa cosa.